Fai. Ma non potevi rimanere in quell'isola passetta? Ma se no noi come rubavamo le idee? E li mette a posto i sassi perché... Ma non potevi rimanere in quell'isola. Ma non potevi rimanere in quell'isola passetta? 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 No, non potevi rimanere in quell'isola passetta? ho vinto a qualche cosa ho vinto a qualche cosa metto che sei man ci manca due tassi qui diciamo che è una pippa si può abbonarti ma non è mio no, quello non è la parte la prima fase è 5 no davvero è 32 5 e 32 metto è la stessa traiettoria 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 Il figlio di orsi! Occhio, occhio, che sei bravo! Come in salita? Ah, come in salita? Però posso farla? Sì. Sì. Vediamo se il cappotto... Aspetta che andate... Diretamente alla colla? No. Cinque? Cinque? Cinque sta da là, lassù. C'è la sei sulle due sopra. Il c'è la sei sulle due sopra. Aspetta. Fatela, fatela. Ok. Aspetta. 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 Garisci. Stai a ragionare come è bruciata la prova. Il problema è che veniamo qui con tutte le ruote sportive. Grazie a tutti. 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 a tutti. grazie 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 a tutti. allora. bello. storia. nooo ma è stata fatta la posta lei. si Posso andare con il setto? Sì. Ah, giusto. Quindi scendere adesso. Escorri, penso che è stato molto bambino. E' vero che ti porto a me questo lavoro dentro. Entra nel canarino, desidera? Non è questo. L'ha preso eh? Ma perché l'ho mai? L'ha preso? L'ho preso. No, non l'ho preso. L'ho preso eh? Ho detto subito, dalla presa non è vero. Entra subito. 10? 12 minuti e 29 ragazzi, c'è il recupero qui. Quanto gli mancherebbe? Andate. Dai, supera. Bravissimo. Già presa. Non si fermi. Non si fermi. Non si fermi. O non acceleri. O non acceleri. Ok. Ti ricordi questa? Come vuoi fare? Ecco qui. Metta un pede qui. Sì, ma non tocchi la macchina. Non è un problema. Non c'è nessuno che l'ha fatto molto. Metro. 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 Poi. La cinque qual è? La cinque qual è? La cinque qual è? La cinque qual è? L'ultimo a pagar caffè. ragazzi mi ero scordato di dirvelo retro no devi fare la 4 l'ha fatta bravo bravo Raffaele che così te voglio no è così tocco qual è la 5? tocco vabbè però la 5 la può fare di retromarcia e poi va la passalla si può fare però è difficile da farla no non va sopra far gire e ritorna l'ha fatto l'ha fatto Claudio Enrico pronto? scusa amore ciao la 5 qual è? a scendere però devi scendere una e una e poi? e poi la 6 6? si va bene un po' un po' un po' una porta un po' presa A7 sta lì sotto Quindi se vede, faccio vedere Ca va, si va Bé, se vede, ricorda Allora perché l'amore come dovrei fare? dovresti fare quello a salire una 9 pronto? ci metto io qua vai ma non passi qua sotto come sono passato io oppure fai una retro e ti torni là pervene a sentire Marco magari e Marco ce l'ha sicuro niente io sto prima di pranzo provaci no non c'è chiaro dai raga non ce l'è impossibile questa col Defend se provi a montare subito lì senti bello sto passaggio anche per fare le foto no? ma si se non fosse per Raffaele che sta meglio coglioni in realtà ma che è più facile non capisci eh? non capisci eh? non senti altamente concentrato piano 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 fai tira il verro si sta spostando a Mauro Mauro ti sta spostando a te dai così così vai ok vai non capisci chi è? ma chi è otto? chi è otto? è fuori poi qua otto minuti signore e signore il nostro Raffaele di Panacost sta passando la prima la seconda per il gelato Mauro sembra ma c'è c'è signore gli elementi scaler non vanno tenuti intorno alla propria persona ma vanno tenuti con il mezzo piano 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 eh ok non posso fare un'altra roba eh eh chiediamo chiediamo qui il fattore del primo è sempre un po' a dire qui qui vedo qui prima qui bene che che è bravo Raffaele Poi dove sali là? Io lo sai che Raffae, hai visto che ha fatto lui? Ammazzo, bella trazione La sei? La sei? La sei? Grazie a tutti. Grazie a tutti. E poi? C'è la 10 lì. La 10 lì devono andare fino a giù. Grazie. Cazzo! La 10 lì. 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 Ma perché sei sceso subito? Mai. Adesso gira. La 10 lì. 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 Segui, fate la fine qui. Ma io ho fatto sì. Oppure fate proprio dietro fino... Vabbè lo ce l'ha provato ragazzi. Uccila a 5 e raccolto. Voi! Voi fate la ritormarcia fino a fuori. Ora stiamo nella capa 12, ora stiamo nella capa 12! Gira, gira, stringi! Stringi e dai sgasso! Stringi e dai sgasso! Dai, 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 dai! No, 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 no! Non si rimette dritto! Mette da un tasco a te! Eh, lo so, quando è sporco! E' qui a scendere! Sì, sì! Quindi devi fare il giro! Se salgo qua! Come vuole lei! Eh, qui c'è... Eh, un'iretre, un'iretre! Ah, ma proprio vai alla ricerca della... Della porta perduta! Della palla perduta! Eh, mi piace prenderle proprio le palla! Eh... No, dai! Scusi! Vabbè, vedro un altro! Scusi! Vai, vai, vai! Scusi! Vai, 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 vai! 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 Esiste il verro, eh! Ricordatevi che esiste il verro! Perché? È perché... Adesso prendi la palletta con te! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Aspetta, dammi pensare! Non me... Patrizia! Vai giù! Vai giù! Facci uno d'albero e ritorni là! Facci bene! Ma io farei meglio di... Io non te lo metto spazio! Scusa! Scusa! Fa una cosa! Guarda! Fai una retromarcia! Dicoria! Imboccati sul laterale e ti fai tutto un giro di salire da sopra! Oppure... Oppure te ne vieni su di qua, no? Eh, sì! Guarda! Un masso! Ma che è che tu? E' vero! E' vero! Ma che è questo? E' vero! E' vero! E' vero! E' vero! Uffa! E' vero! Vai Maria che c'è da pure il ghiaccio! Allarga, allarga! Aspetta! Stiamo dietro! Ti stiamo dietro! Ti prendiamo da dietro! Che c'è? Aspetta, eh! Qua! Verdo! Ah, ci senti! Non è comoda, eh? Pazzo, io l'abbiamo messa! Che caglio! Ok, poi... La 10 sta lì! No, sta qua! La 10 sta lì! Questa è tocca! Però si fa, eh! Mariano, guardala bene! Bravo! Ancora, stringi! Troppo lagato! Mettetele là! Mettetele là! Ma no! Ma c'è? Ma c'è? Parabrezzo! Eccola! Di quella merida! Eccola! Addrizzalo! 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 Addrizzalo è una parola! Si manca! Passa qui! Qui sopra! Qui devi passare! Qui sopra! Perché ne andai a scivolare? Qui sopra! Per il muschio! Cioè il muschio! Il muschio! Vai che hai fatto! Dai! Vai su! Vai su! Scoreggietta! Vai! 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 Vieni! Ora il codicchio! Undici! Certe volte penso che c'è veramente una mente per netta! Sì! Vero? Io no certo troppo! Lo penso sempre! Cioè ma come c'è tutto mi vengono in mente? Guarda io non lo so! È naturale questa cosa! È innaturale! È innaturale! È innaturale! Andiamo a farci le cripto a me! È la propria qua! Vai su! Vai su! Ma tu che devi scendere le vievole cali! Pichissimo! Fermate un attimo! Fermate! Fagliela da davanti ste! Dal basso! Aspetta! Magari se... Fai il primo piano! Stai su! Stai su! Vieni! Vieni qua! Vieni qua! Lasciate! Vieni qua! Vieni qua! Vieni qua! Ma sai io pure fai proprio le gomme sbagliate! No! Eh! Quelle... Quelle fine! Quelle fine della terra! Qui sì! Vittorio non le gomme fa più! Ma che fai il capo fa? Aspetta! Aspetta! No no no! Vabbè, io mi metto qua. Vida te. Vida te in cazzo. Aspetta, vai più piano che poco che gira da sola. No. No, no. Non gira perché c'ha le spugne in troppo moglie. Vabbè, se è andato bene, deve andare male. Dai, perché è il sadrizzo. No, lo devo fare. Aiuta, non hai capito? Ah, bello. Tre. Quattro. Cinque. Motore. Motore. Ma dai che la fai. Retro. Retro, è una bella rincorsa. Aspetta che la sposta, questa stava più con. È sempre giusto, è andato. No, se non stai affattando bene, che bastato caino. No, ci basta più nessuno qua. Esiste il vericello. Aspetta. Fatti la, fatti. Fatti la. Abbiamo preso la palla. Vai dritto, vai su, no, torcele così, caccia. Va bene, va bene, va bene. No, la setta o descende. Quanto devi scendere? Ma Maria, hai piante. Ma quando finiscono queste palle? Una volta duravano le palle. Bocsi, bocsi, bocsi. Ti ricordi com'era qua, Maria? No? Vai. Direnna verso da qua, Maria. No. Verso di Gini. Verso. Oh, 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 oh. Accelera. Guardi che deve salire sul copo. Dove si è spazzato? Si è spazzato, guarda. Guarda che si è spazzato. Pronto, pronto. Mariano, la zona è bene. Mariano, fa come fa sempre. Guarda, io poi un consiglio. Se tu riesci a fare così, non riesci a fare. Le gomme ce l'hai. Ma quale deve fare? La 10? Tettela così, mano a mano, piano piano. Vai su, piano piano vai su, che sennò ti parti. Ok, tette sempre più fuori. Bravo. Guardatela bene, che lì c'è un bel angolo d'attacco. Attacca la malva, attacca la malva. Non la prende dritta. Attacca la malva. E che non ci spostare il... Agiaiai, ragazzi. E' come si fanno? Agiaiai, ragazzi. Qui è complesso assai. Forse ce la fai, Salino. Vai, forse hai ricevuto. Forse ce la fai. Adesso no. Dai, così va bene. Tira, tira quello. Bravo. Passato. Passato, bravo. Sì, sì, c'è la foglia tutta. Cominciamo, eh. Allora, lì c'è. Oh, Dio. Rifatti la vente. Con riferimento. Mi hai fatto la prima gente. E non ti ferma. Allora. Ok. Ok, ok. Ok. Ok, ok. Ok, ok. Grazie! riusciva a superare la porta 2 un quarto stava lì fatti le tua macchia mamma mia non ti devi fermare, vai 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 ti dà di troppo grip e ora ve le cominci a fare le prove con la terra già abbiamo bucchiato vedo e appoggio ti stai scuricendo piano 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 senza bucare, provo a farla di grit vai ci sto io dietro punta subito su 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 così grande piano 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 ah il velicello ci sta apposta piano 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 sfida della vieni ti metti qua pronto manca un centimetro di passo devi girare all'altra parte ecco che si schiaccia a piedi vedremo chi ce la farà dai ce l'hai verro? vai sul di verro dai ce l'hai verro? ce l'hai filo ma sta dentro ecco guarda oh oh